Via Feltre è un luogo d'ingresso alla città importante che merita, secondo me, maggiore rispetto e una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione. Nasce così la petizione destinata al sindaco di Belluno per chiedere maggiori attenzioni su Via Feltre. Nessun intento polemico o critico, sottolineano i proponenti, ma solo la richiesta di considerare le diverse situazioni segnalate. Sette i punti messi sotto i riflettori. In particolare, in primis, vogliamo chiedere la manutenzione dei marciapiedi. Lo stesso, anche il manto stradale, diciamo, delle carreggiate non è a posto. Un altro problema, specialmente nelle ore serali, si verificano delle problematiche di alta velocità da parte degli automobilisti che transitano. C'è poi la sistemazione definitiva della rotatoria con Via dei Dendrofori, la viabilità al passaggio a livello verso San Gervasio e la sicurezza della pista ciclabile. C'è anche l'arte con la situazione del capitello Prosdocemi, di proprietà della provincia. Comincia a rilasciare detriti e potrebbe anche colpire qualcuno che passa sotto. Tutto è comunque non è decoroso, visto che è una struttura all'inizio del 1900, anche a cui parte della popolazione sono ancora devoti e quindi andrebbe rimesso a posto. Nella sola prima mattinata sono già state raccolte una cinquantina di firme. Abbiamo trovato un'enorme sinergia sia da parte degli abitanti sia da parte dei commercianti comunque perché Via Feltre è una via bellissima che rappresenta un po' la storia di Belluno con le sue bellissime villette Liberty sia dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista sociale. Permarrà per almeno un mese, quindi fino a metà o l'ultima settimana di giugno e ci si può rivolgere al negozio expert di Via Feltre oppure dal fornaio Balbinot. Serve solo nome e cognome e la firma.